ah raga eccomi sto nella nella sala di ansa alla qui c'è un giacchetto che non mi entra da l'anno scorso non mi entrava un anno due adesso vediamo se mi entra insieme eccomi il giacchetto eccolo è una EU2XL l'ho comprato beh lo sento stretto e ecco qua raga ah raga devo proprio no ok mettendomi normale questo eccolo eh lo sto tirando non è che sta così devo guarda qui proprio devo ritirare tutta la pancia ma non ci arriva comunque arriva qua vabbè speriamo che per quando fa freddo riesco a mettermelo e vediamo se trovo qualcos'altro che non mi entra aspettate questo mai messo questo è un XL è un XL cioè raga è bellissimo non l'ho mai messo in vita mia perché prima a partire con il fatto che questo a me non mi sembra proprio un XL ma proprio non mi entra raga non riesco non entra il braccio niente non entra proprio per niente che peccato perché proviamo a mettere prima un altro braccio ne un po' aspettate no vabbè aia mi sono fatta pure male ok e quest'altro che poi è bellissima guardate che bello vedremo se tipo se mette così c'ho tantissimi vestiti raga carinissimi ma so belli ma non ballano non mi entrano raga eccolo guardate che bello immaginatemi con questo così magari con bel pantacollante pelle due bei tacchi artissimi che dico ciao raga ora di pranzo oggi asparagio e che figata vabbè non entra ce li riproveremo tra un mese così vediamo come il giacchetto spero che veramente mentre la prima perché boh vabbè quando fa freddo niente riproviamo